Siate ministri di pace e consolazione in mezzo al popolo di Dio. È la raccomandazione che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al corso di formazione per i parroci, promosso dalla rota romana. A tutti il Pontefice ha ricordato che il matrimonio è icona di Dio e che rappresenta il bene primordiale della famiglia. I parroci quindi devono essere misericordiosi compagni di viaggio per i giovani che desiderano formare una nuova famiglia e sposarsi nel sacramento del matrimonio, per quanti si trovano in crisi e per coloro che chiedono indicazioni per iniziare un processo di nullità. In questa delicata e necessaria opera, ha imprecisato Papa Bergoglio, fate in modo che i vostri fedeli vi riconoscano non tanto come esperti di atti burocratici o di norme giuridiche, ma come fratelli che si pongono in un atteggiamento di ascolto e di comprensione. Al tempo stesso fatevi prossimi, con lo stile proprio del Vangelo, nell'incontro e nell'accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi. Essi, sul piano spirituale e morale, sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa sulle orme del suo Maestro e Signore vuole essere madre e non abbandona ma che si avvicina e si prende cura. Anche queste persone sono amate dal cuore di Cristo, abbiate verso di loro uno sguardo di tenerezza e di compassione. Grazie a tutti.